E appunto emergenza Covid-19, ai nostri microfoni il dottor Angelo Palmeri dell'ASP di Trapani, medico di sanità pubblica, nonché specialista in microbiologia e virologia, col quale abbiamo tracciato alcune delle norme comportamentali da osservare, soprattutto in questo periodo. Questo è il momento in cui è necessario dare delle informazioni corrette. I riferimenti ci sono, sono a livello regionale, provinciale, il Dipartimento di Prevenzione. È assolutamente necessario che ciascuno faccia la propria parte, che si rispettino le norme igienico-comportamentali, che si rimanga in casa, salvo motivi di comprovata necessità. Il decreto praticamente odierno rende l'Italia una zona rossa, una zona protetta, per cui è necessario mettere in atto tutte le misure igienico-sanitarie, comportamentali, al fine proprio di rallentare la diffusione di questo virus. Siamo tutti coinvolti perché il virus è nuovo, verosimilmente non è mai entrato in contatto con nessuno di noi ed ha un'elevatissima contagiosità, per cui l'unico strumento in questo momento che abbiamo è l'isolamento. È l'isolamento dei nostri ragazzi che rientrano dalle regioni del nord, è l'isolamento di tutti noi, perché è assolutamente in questo momento necessario evitare i contatti interumani, evitare i contatti sociali e rimanere in isolamento domestico. Nasce, come sappiamo, in Cina, nasce in alcuni mercati, nei wet market, che sono mercati bagnati, in cui la contaminazione tra animali ed esseri umani è molto forte. Ha fatto un salto di specie ed è stato in grado di riconoscere le cellule umane e di trasmettersi poi da uomo a uomo. Però è un virus che si trasmette appunto tramite i colpi di tosse, tramite gli sternuti, tramite la saliva, per cui l'unico strumento che in questo momento abbiamo è proprio la prevenzione dei contatti sociali, anche perché abbiamo bisogno di tempo, per cui diventa importante il comportamento individuale di ciascuno di noi. È un richiamo proprio alla responsabilità. In questo momento è fondamentale affidarsi ai tecnici, alla scienza, ai divulgatori scientifici, che sono in grado appunto di dare le giuste indicazioni, i giusti comportamenti da eseguire, e rispettare alla lettera le disposizioni nazionali, regionali, provinciali. È assolutamente necessario appunto contattare i numeri di riferimento, che sono i numeri verdi sia nazionale che regionale, contattare il proprio medico di famiglia, il Dipartimento di Prevenzione e anche il Comune, proprio per rappresentare il proprio stato di isolamento, registrarsi anche sui siti istituzionali, in modo da poter avere contezza di tutta la popolazione e della gestione anche degli eventuali isolamenti. Abbiamo messo in piedi tutte le strutture organizzative e gestionali a tutti i livelli, per cui in questo momento l'appello rimane sempre lo stesso. È la popolazione, è il loro comportamento, i loro gesti quotidiani che faranno la differenza, che consentiranno appunto all'epidemia di rallentare e probabilmente ci verrà anche incontro la bella stagione che potrà anche rallentare ulteriormente la trasmissione del virus. In questo momento la provincia di Trapoli non ha alcun caso, appunto, ad oggi e in questo istante. È evidente che teniamo sotto osservazione tutti i rientri dalle regioni del nord che negli ultimi giorni, nelle ultime ore sono avvenuti. Diventa fondamentale il loro monitoraggio e la loro gestione. C'è un coordinamento provinciale al Dipartimento di Prevenzione che tiene quotidianamente in tutti i comuni della provincia di Trapoli sotto controllo tutte le azioni, sia dei singoli cittadini che delle azioni provinciali e comunali. Ripeto, diventa fondamentale il richiamo al senso di responsabilità di ciascuno di noi. Ad oggi i movimenti, come sapete, sono limitati, gli spostamenti, se non necessari, devono assolutamente essere evitati, per cui diventa fondamentale che ciascuno faccia la propria parte. Ragazzi diciamo di rimanere a casa, di leggersi un buon libro, di studiare e di approfittare anche delle connessioni online e social per poter comunicare con chi preferiscono, ma questo è un momento in cui va preservata la loro salute, la salute dei loro cari, dei loro noni, delle loro zie, di tutta la comunità. I social sono uno strumento quasi del tutto impossibile da controllare, però il suggerimento è quello di utilizzare la stampa istituzionale, utilizzare i siti ministeriali e ufficiali, il Ministero della Salute, utilizzare il sito del Dipartimento di Protezione Civile, dell'ASPO di Trapani, dove troveranno anche tutti i numeri di riferimento e adeguati comportamenti, quindi leggere, aggiornarsi rispetto a delle indicazioni scientifiche serie.